Buongiorno, buon inizio settimana a tutti, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV. Come sempre è la rassegna stampa ad aprire i programmi in diretta da nostra emittente e lo faremo tra poco con i giornali. Oggi è lunedì 9 maggio e la Chiesa Cattolica ricorda San Pacomio, un santo dei primi tempi, un santo dell'anno 219, 292. Il sole sorto alle 5 e 49, tramonterà alle 20 e 20. Che tempo ci attende per la giornata di oggi? Lo andiamo a vedere con la grafiche della protezione civile delle Marche, eccola qua. Avremo oggi cielo parzialmente nuvoloso per un transito di nuvole medio-alte con precipitazioni durante le ore centrali, rovesci sparsi nelle zone dell'entroterra. Le temperature sono in lieve aumento. Per la giornata domani, martedì 10 maggio, cielo sereno poco nuvoloso con temperature in aumento. Ci sarà ancora un po' di nuvolosità nel corso della settimana con deboli fenomeni di instabilità. Allora, ieri ci sono due notizie, due notizie in evidenza. Una di sport con il derby Fano-Vis o Vis-Fano e poi l'altra invece è la fotografia che ci dice tutto ed è un incontro che ha avuto ieri la famiglia Ferri con il Papa, un incontro atteso da molto tempo, due ore insieme al Pontefice. Racconta Michele Ferri come un parroco e non voleva più mandarci a casa. Michele e famiglia raccontano l'incontro più emozionante in Vaticano. Come un parente si è comportato Papa Bergoglio. Mi ha aiutato, ha detto, a caricare le nostre cose in macchina e ci ha ringraziato per la visita. Ci ha fatto vedere dove pranza con tante altre persone. Poi ricorda la lettera che è stata quella che ha fatto partire il rapporto prima telefonico e poi da ieri anche vis-à-vis, insomma, con la famiglia Ferri. Una lettera che Michele scrisse tre anni fa quando gli uccisero il fratello a Pesero, lo ricordiamo. Tre anni fa Michele invia appunto al Papa una lettera per chiedergli in sostanza perché Dio ha permesso che tanto male si abbattesse sulla sua famiglia. Poi il giornale ricorda l'invito del sindaco di Pesero, Matteo Ricci, che ha inviato appunto tramite Ferri l'invito per la visita apostolica di Bergoglio a Pesero. Da 160 anni manca un Papa nella nostra città, dice il sindaco, e poi le tagliatelle. Sant'Italia, ha detto Michele Ferri a Bergoglio, se lei viene a Pesero mia mamma le può cucinare le migliori tagliatelle che lei ha mai assaggiato finora. E la mamma, la vedete qui, la signora con la foto di Papa Francesco e i suoi due figli, Michele e Andrea. Andrea, lo ricordiamo, è stato ucciso da due persone. Poi la vicenda del politico appunto morso da una vipera, Mirco Ricci, migliora dopo la grande paura, morso da una vipera nei boschi di Montecopiolo mentre cercava dei funghi. Necessario è stato per lui il trasporto nell'ambulanza d'Ancona per neutralizzare gli effetti del veleno. Mirco Ricci dunque sta meglio, l'ex consigliere regionale del Partito Democratico, 56 anni, che è stato morso da una vipera sabato scorso nei boschi di Montecopiolo, vicino all'eremo di Carpegna, si sta dunque riprendendo rapidamente. E poi l'esperto, l'esperto intervistato dal giornale che dice mai con le mani per terra usate il bastone per muovermi, muovermi, muovervi. Andrea Fazzi, che è naturalista, un grande esperto di rettili, tra l'altro svolge anche dei corsi ai cacciatori, ai cercatori di funghi, ai tartufai contro il rischio di imbattersi in rettili pericolosi, dice Fazzi, sono sbalordito perché di vipere che attaccano un uomo non ne sentivo parlare da molti anni, dando per scontato che fosse una vipera. Spero per Ricci che sia stato curato per i sintomi che gli ha provocato il morso, ossia vomito e altro e non sia stato sottoposto al siero. E poi continua Fazzi a raccontare e a spiegare un po' come bisogna comportarsi soprattutto quando ci si trova o per evitare scongiurare situazioni del genere. Andiamo a Fanno sulla pagina del Carlino sempre perché? Perché la notizia che il casuttino dei passeggi, quello fatiscente che è stato lì fermo, disabitato per tantissimo tempo, è stato ristrutturato, rimesso a posto, ha fatto sì che in molti commentassero positivamente questa cosa, soprattutto sui social network. Adesso lì c'è un laboratorio di cucina in questo casuttino dei passeggi, dopo anni appunto di abbandono e presto riaprirà anche il chiosco. Grave dopo uno scontro invece con un'auto guidata da un'automobilista un po' alticcio, un 56enne di Mondolfo è stato ricoverato con fratture all'ospedale di Pesaro e poi sui giornali troverete naturalmente le notizie di sport perché oggi è lunedì e come di consueto c'è lo sport. Allora sulla pagina di Fanno del Corriere Adriatico c'è per esempio la notizia che riguarda la Colle Marathon che si è corsa ieri da Barchi a Fanno. La Colle Marathon quest'anno parla italiano, sconfitti i favoritissimi africani, sul podio ci salgono Gargamelli e Icardi. Vedete il momento della partenza con come sempre la grande coreografia e scioreografia molto bella delle partenze. Poi sotto i protagonisti di questa Colle Marathon targata 2016, sotto la festa del tesseramento all'Acli di Sant'Andrea in una società in cui non ci si incontra e poco si parla, svolgiamo, dicono, un importante ruolo di aggregazione. Vedete un momento e il racconto della festa all'Acli di Sant'Andrea. La pagina di Senigallia invece del Corriere Movida sul lungomare, la sosta nel caos, problemi di viabilità nel fine settimana, parcheggiatore abusivo, trova un portafogli con 550 euro. Una donna tenta invece di truffare i turisti che erano a passeggio sostenendo di aver finito la benzina. Travolge invece un centauro a Ponterio sabato notte e denunciato un giovane, un altro ubriaco al volante. O qui ormai sono o ubriachi o distratti dai telefonini. Andare per strada ormai è diventato un terno all'otto, bisogna stare non solo attenti a quello che si fa ma soprattutto attenti a quello che fanno gli altri. È una roba incredibile. Poi dalla pagina di Pesaro del Corriere, Papa straordinario, sensazioni incredibili, dalla famiglia Ferriere andata dal Santo Padre, regali per tutti, a Fabio Indono, un modellino della Papa Mobile. A noi è sembrato di parlare con il nostro parroco, racconta lui, la sua umiltà è una lezione che non si dimentica. Già, l'umiltà. Con l'auto nel burrone è un giallo, il ferito, siamo a Cagli, ricorda di essere caduto mentre raccoglieva funghi. Ma la sua panda è nel dirupo, quindi qualcosa chiaramente non torna. Vigili urbani, siamo a Pesaro, assemblea e un sit-in in prefettura, siamo pochi e la protesta si allarga. La brutta china della politica da Urbino, tacchi a spillo e stalkeraggio, la sinistra sulle carte bollate tra Torrico e Crespini, questa giunta deluso, le aspettative della città ma il PD non dimentica le sue enormi responsabilità. Anche qui la notizia del miglioramento della salute di Mirco Ricci dopo essere stato morso da una vipera, l'ex capogruppo in regione è ancora ricoverato, la moglie gli è accanto. Andiamo adesso sulla pagina del messaggero. Palla, basta con le critiche, l'assessore Belloni ha i detrattori, lavori non ancora finiti, inutile lamentarsi adesso ma l'arredo del nuovo piazzale continua a dividere, si offende l'opera di Pomodoro. La famiglia Ferri, un papa per amico, oltre due ore di colloquio con papa Francesco o forse come dice Michele Ferri, sembrava di parlare più con un parco per l'intimità, la semplicità e la disponibilità. Ufficio ad hoc per intercettare i fondi europei, apre da Colagna, oggi presentazione con le due assessore regionali, Pora e Bravi. Sotto il tempo, il tempo che sta dunque per cambiare dopo una domenica variabile. Anche qui palla avvelenata, le pagine interne del messaggero, il nuovo piazzale a Pesaro continua a dividere. Mentre a questo punto non ci rimane altro che dare un'occhiata velocemente alla pagina di Sport di Serie D. Eccola qua, dunque il derby, Fano, Vispesaro, scusate, Alma Juventus Fano finisce 2-1 per l'Alma che vince dunque questo ennesimo derby. Va detto che la squadra bianco-rossa è finita, ha giocato per gran parte della partita in nove a causa dell'espulsione di due giocatori. Insomma, il clima era molto teso, una partita brutta sia dentro il rettangolo di gioco che fuori dal rettangolo di gioco. In particolare per noi di Fano TV che eravamo lì, c'ero io e con il telecronista Sergio Catalani, siamo stati aggrediti. È stata una brutta esperienza, una brutta partita. Non voglio dire altro, non dico nulla, dico soltanto che quello che è successo ieri lascia molto l'amaro in bocca, quindi questa sera certamente vedrete la partita, la vedrete in sintesi, perché credo non sia neanche dignitoso mandare in onda una partita con in sottofondo bestemmie, insulte e quant'altro che a un certo punto, soprattutto dopo il gol, il primo gol, il gol del pareggio del Fano, si sentivano lì sulla tribuna. Insomma, ecco, una scene brutte, al di là dell'aggressione personale e tutto il resto, questo è un altro discorso, ma proprio scene brutte e quindi manderemo soltanto la sintesi con le immagini, diciamo più belle, salienti forse è il termine esatto, di questa partita. Vi faremo vedere i gol, un po' di telecronica, ma niente di più. E poi annuncio ufficialmente che Fano TV non metterà mai più piede in uno stadio di serie D. Credo che questa sia la scelta più giusta, perché gli stadi non sono sicuri, perché non è... lo spettacolo che spesso viene offerto non è degno di essere trasmesso in televisione. Buona giornata.